Buonasera e ben trovati a questo appuntamento Con occhio al sindaco, questa sera siamo con un candidato a sindaco alle elezioni comunali di Sillano Giuncugnano e si tratta di Roberto Pagani, buonasera Buonasera a voi Allora, Sillano Giuncugnano, due comuni che si fondono e quindi vanno al voto in questa situazione per la prima volta Cominciamo a conoscere subito il candidato di questa sera, intanto quanti anni ha e qual è il suo stato civile? Allora, io ho 48 anni, sono accompagnato con Francesca, ho una figlia, ho una figlia Rebecca e nulla, non è la prima volta che mi presento Prima ci dica dove abita e che cosa fa di rinforzare Allora, abito a Sillano e sono un libro professionista Perfetto, in realtà a Sillano e a Giuncugnano la conoscono già lei, però facciamo lo stesso di nuovo questa presentazione Precedenti esperienze amministrative e politiche? Allora, io mi soffermo prevalentemente sulle esperienze amministrative che hanno caratterizzato buona parte della mia vita Io ho già fatto il sindaco nel comune di Sillano per due legislature Quindi partendo dal 99, poi c'è stata un'interruzione diciamo per i 5 anni che la legge non prevedeva il terzo mandato Mi sono ripresentato in occasione del momento diciamo che era propedeutico poi alla fusione dei due comuni E ora in coerenza con quel momento eccomi di nuovo candidato anche quest'anno Ecco perché c'è stata la fusione e quindi c'è stato il commissariamento momentaneo dei due comuni in attesa dell'elezione del nuovo sindaco Allora, lei si è soffermato sulle esperienze amministrative però allora le chiediamo per chi vota le prossime elezioni regionali Non ci dica preferenza di consiglieri regionali perché non la vogliamo sapere però ci dica per quale candidato a presidente vorrebbe votare Allora, il presidente che io vorrei votare probabilmente non è ancora stato iscritto nelle liste elettorali Io sono amante dell'amministrazione e un po' meno della politica che stiamo vivendo in questi momenti Io sono molto attaccato ai problemi del territorio, li vivo sulla pelle quotidianamente avendo contatti con le persone E quindi mi piacerebbe e non ho ancora trovato, quindi vivo l'incertezza che vivono molti cittadini nell'individuare il personaggio adatto I problemi della Garfagnana, poi spero di aver modo anche di poterne parlare in questa intervista Non sono stati affrontati in questa campagna elettorale per le elezioni regionali Pertanto sono ancora in attesa, c'è sempre una settimana e spero che qualcuno riesca a convincermi sui sui buoni propositi per il mio territorio Quindi poca politica, molta amministrazione Con la fusione di due comuni, lo sappiamo già perché abbiamo già avuto esperienze tra l'altro in provincia di Lucca Arrivano anche dei finanziamenti da parte dello Stato In questo caso arrivano circa 600 mila euro perché per Sillano e Gioncuniano sono una bella cifra I cittadini vorrebbero sapere come, se lei diventerà sindaco, come vorrà utilizzare questo piccolo tesoretto Benissimo Innanzitutto ringrazio per la domanda perché mi danno modo di fare chiarezza su questo aspetto In quanto voci di corridoio hanno cercato di mettere addirittura in discussione l'effettivo importo che ci viene concesso da Regione e dallo Stato L'importo esatto sono circa 637 mila euro e consentiranno al comune di Sillano e Gioncuniano Già nel prossimo bilancio di azzerare quella che è la Tasi per la prima casa Consentirà al comune di Sillano e Gioncuniano di azzerare l'addizionale IRPEF E soprattutto consentirà al nuovo comune di avanzare progetti Uno l'abbiamo già presentato in questi giorni al Ministero Per la creazione di centrali che sfruttano le energie rinnovabili e che potranno consentire una volta realizzate già di portare nuove risorse al comune di Sillano Noi abbiamo presentato un progetto su un mini eolico, un mini eolico da 60 kilowatt che potrebbe dare al comune di Sillano e Gioncuniano risorse immediate per 80-90 mila euro ogni anno E questo per le nostre dimensioni demografiche, per i nostri numeri di bilancio sono numeri altissimi Nonostante questo rimarrebbero ancora a disposizione risorse da investire e il mio interesse principale sarebbe quello di investirlo sul sociale Perché noi abbiamo problematiche legate alla mobilità, abbiamo problematiche legate ai servizi di vicinanza Quindi cercheremo di investire queste risorse soprattutto sul sociale, sulle scuole, sulla cultura E grazie a queste risorse che hanno trovato i cittadini, queste risorse sono state trovate dal 65% di quei cittadini Che nell'ottobre del 2014 hanno deciso di votare sì a un processo storico per le nostre comunità Che è quello di fondere il comune di Sillano col comune di Gioncuniano Al di là dell'impiego di questi 600 mila euro ci può anche tracciare qualche altro punto qualificante del suo programma elettorale Che lei ovviamente vorrebbe si tramutasse in programma di governo Allora innanzitutto è il nostro programma elettorale, ora chiaramente capisco il senso della sua domanda È un programma elettorale di due comunità Noi ci siamo confrontati non più tardi di un anno fa su questi temi Perché noi abbiamo avuto le elezioni, le amministrative nel maggio del 2014 Poi abbiamo avuto il referendum nell'ottobre del 2014 Poi abbiamo avuto il semestre di ottimo commissariamento da parte della dottoressa Trimarchi e della dottoressa Fedi Di cui va il mio personale ringraziamento e anche quello di tutta la nostra cittadinanza Quindi abbiamo già un programma che è già attivo, è già stato messo in atto sul territorio Ci sono due direttive principali, due binari Il primo binario è quello che opera sul nostro territorio E quindi semplificazione della macchina amministrativa Costituendo un nuovo comune chiaramente si amplia il numero delle frazioni Quindi abbiamo deciso per optare per il municipi, per la municipalità Quindi sede a Sillano ma sede di staccata anche nella precedente ubicazione di Magliano Per essere molto vicini ai cittadini Un sito nuovo all'interno del quale i cittadini potranno trovare tutte le certificazioni anagrafiche Quindi senza la necessità di diversi spostare da casa I cittadini potranno automaticamente stamparsi quelli che sono i certificati maggiormente ricorrenti Dopodiché opereremo molto sul fattore della sicurezza Il comune di Giuncugnano è stato negli anni passati oggetto anche di problematiche legate alla microcriminalità Che per noi sono una cosa nuova Quindi abbiamo già pronto un progetto di videosorveglianza che coprirà tutto il nuovo territorio comunale E poi c'è un altro binario Che è un binario che mi vede particolarmente impegnato Che è il binario che guarda un territorio più vasto Che è il territorio della Garfagnana Quindi è chiaro che noi non possiamo disgiungere il nostro comune da un'area come quella della Garfagnana E all'interno della Garfagnana oggi E lì mi riaggancio anche alla domanda che mi ha fatto inizialmente per chi voterà alle regionali Il problema pregnante è il problema della sanità Noi abbiamo due presidi ospedalieri Abbiamo il presidio ospedaliero di Barga e il presidio ospedaliero di Castelnuovo Che stanno vivendo momenti difficili Non ci sono state prese di posizioni forti da parte dei sindaci Per tutelare gli interessi delle fasce più deboli Forse perché sono numericamente meno importanti E oggi lancio un appello Perché nel caso in cui io dovessi essere eletto Il mio impegno andrà proprio per questo numero forse esiguo di persone Che però sta subendo questo disimpegno totale da parte della politica Garfagnina Che sono i soggetti dializzati e i soggetti malati oncologici Perché come ben sapete Dialisi è stata tolta dal presidio ospedaliero di Castelnuovo E il day hospital oncologico è stato tolto da Barga Io sono vicino a queste persone Anche se nel mio comune, quindi questo non è uno spot elettorale Anche se nel mio comune fortunatamente non ci sono tantissimi casi Ma ci sono dei casi E sono vicino alle famiglie di queste persone Che non possono sopportare l'abbandono della politica Questo è veramente un male Che mi porterebbe a dire Il 31 di maggio Il segnale più forte sarebbe quello di non andare a votare Abbiamo il tempo per dire ancora qualche parola Sulle persone che l'accompagnano in questa avventura elettorale Quindi sulla lista dei possibili consigliari che lei ha presentato Intanto diciamo anche il nome della lista che l'accompagna E poi magari nominiamo anche i nomi delle persone che sono con lei Della sua squadra Diciamo appunto due parole complessivamente su questa squadra che l'accompagna Sì, grazie mille Allora la lista è una lista civica Proprio composta da persone che hanno già fatto parte Delle amministrazioni precedenti Quindi tutte persone che hanno un'esperienza alle spalle Quindi persone capaci di guidare questa macchina amministrativa Hanno una patente per poter guidare questa macchina amministrativa Uno dei mali principali delle amministrazioni a volte è che si va sull'improvvisazione C'è stato negli anni passati un forte appello al giovanilismo Quando invece serve anche persone capaci di sapere cosa vanno Dove vanno a operare La lista sviluppo e territorio per Sillano e Giuncugnano Quindi è composta da cinque ragazzi Cinque uomini Che hanno fatto parte dell'amministrazione Dell'ex comune di Giuncugnano E cinque persone Dell'ex comune di Sillano Questo per volontà mia E all'interno di queste dieci persone Due verranno ripresi come assessori esterni Per cercare di rafforzare questo legame col territorio Per cercare di non abbandonare né l'uno né l'altro territorio Vado in ordine alfabetico Abbiamo Alberini Davide Davide Alberini è già stato consigliere nel comune di Giuncugnano Abbiamo Angeli Antonio che ha già ricoperto la carica di assessore Nel comune di Sillano Abbiamo Angeli Francesco Angeli Francesco è stato vice sindaco e capogruppo Già in precedenti amministrazioni Abbiamo l'unica donna Marta Danti è già vice sindaco del comune di Giuncugnano Abbiamo Enzo Fontanini Che ha già ricoperto il ruolo di consigliere nel comune di Sillano Abbiamo Nicola Pelligrinotti Che è già stato delegato all'Unione dei Comuni E già consigliere del comune di Sillano Rossi Michele Che ha già svolto il ruolo prezioso di consigliere comunale Talani Walter Che è stato già vice sindaco e assessore del comune di Sillano Tonelli Carlo Che è già stato assessore del comune di Giuncugnano E l'unica persona che non ha mai rivestito cariche amministrative È Reali Marco Reali Marco Spenderei una parola se il tempo È rapidissimo A disposizione c'è ancora È un testimone ideale È un passaggio di consegne Perché è figlio di un carissimo amico E di una persona che ha dato tanto al suo comune È tanto la Garfagnana che è Fabio Reali Prematuramente scomparso Ma vivo ancora nelle nostre coscienze Nei nostri cuori E nel territorio dove viviamo Si vedono ancora vive le opere che ha costruito Lui è il figlio Il figlio ha voluto essere messo fuori Dall'ordine canonico Dell'ordine alfabetico Così come fece suo padre un anno fa Quindi è un motivo di orgoglio Che ci spinge Che ci dà anche motivazione Per andare avanti Con questa nostra sfida sul territorio Bene, grazie a Roberto Pagani Vi ricordo candidato a sindaco Per il comune di Sillano Giuncugnano Grazie ancora per essere stato nostro ospite Vi ringraziamo per l'attenzione Vi auguriamo una buona serata Grazie a tutti